Come anticipato nell'ultimo video, oggi ritorno gli ospiti di Profumi di Nicchia. Dopo l'eleganza di Maffei, il fumetto di Gualtieri e la follia del Pax, è raggiunto il momento di diventare più spirituali e di tornare a viaggiare attraverso le fragranze. Avremo modo di dialogare con il più grande esperto di olio d'oliva d'Italia, con uno dei backpackers che ha esplorato l'Asia in quasi tutte le sue pieghe, con un profondo conoscitore di Emily Dickinson e infine con un trendsetter infatto di cappelli alla moda. È stato erborista per molti anni, è il protagonista a tutto tondo di una Matteo Selection che trovate come sempre in esclusiva ed in emizione limitata solo su 50-ml.it. Ma oggi è qui per raccontarci la sua vita come profumiere. Buon divertimento con la nostra ultima intervista. Uno, nessuno, centomeo. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia. Oggi continuano le nostre interviste e finalmente siamo riusciti qua ad avere, grazie anche alle vostre richieste, da una parte Gabri che ormai è una presenza quasi fissa, chiamalo, chiamalo, chiamalo. Ma abbiamo finalmente Giuseppe Imprezzabile, in arte, Mio Fusciuni, che da sasso maggiore è arrivato qui a raccontarci le sue fragranze, ma non solo, perché attraverso ognuna di queste fragranze Mio ci farà viaggiare in un posto diverso. Grazie di essere venuto. Grazie a voi. Benvenuto. Innanzitutto ho ne approfittato di questa cosa, di questo evento speciale, poi mi sento anche un po' in radio. Certo, è il microfono da radio, poi siamo anche in due contro uno. Esatto, guardate, mettiamo anche pressione. Mi sento molto in radio, perciò ne ho approfittato ieri sera di scavare un po' nell'archivio, perché ho un archivio Mio e in atelier veramente pauroso, perché ormai a giugno sono 13 anni, 13 anni di storia, però 13 anni di vita, e perciò è un po' come devi fare un trasloco. Ti sembra avere la casa piccola e poi trovi il mondo. E per me ieri, intanto che preparavo o non preparavo questo incontro, perché alla fine non l'ho preparato, perché mi sono perso in archivio a riguardare alcune cose, e allora ho trovato due cose da portarvi oggi molto speciali, perché l'archivio è fatto anche quasi da pezzi unici, cose che non esisteranno mai più, cose che noi scriviamo, stampiamo, e poi dopo non vengono più prodotte, perché ho sempre amato, anche nelle passioni che ho nella vita, amo le cose che veramente durano quel tempo. Un po' mi viene anche dall'amore della cultura giapponese, i giapponesi chiamano Nagori, la fine della stagione, la fine, ad esempio, della stagione di un frutto, è proprio quell'attimo poco prima della fine, che i giapponesi chiamano Nagori. È un attimo che nella vita a me piace vivere, perché è come ogni attimo un suo senso. Questo è uno di quegli attimi? Questo è uno di quegli attimi e potrebbe essere anche una bell'intro per questa nostra chiacchierata. E ci pensavo ieri sera, non hai veramente la bacchetta magica per il nostro lavoro, perché quando stavo lavorando a Sogni, e questo penso che non lo sappia nessuno, il primo nome non era Sogni, ma era Aruka. In giapponese significa lontano, un luogo lontano. Il Giappone è una terra lontana, una cultura lontana. Man mano che lavoravo a Sogni, invece, mi sono accorto che il mio desiderio, il mio sogno era quello di avvicinare a me il Giappone, avvicinare agli altri la cultura giapponese. E allora da lì non l'ho mai fatto in vita mia, ma cambierò il nome, in corso d'opera, come si dice. E allora è diventato Sogni, perché è una dedica ad Akira Kurosawa, il suo film Dreams, è stato il primo film giapponese che ho visto, e che ha cambiato, possiamo dire, la mia vita, è un po' come The House di Sharunas Bartas, che è un regista etuano. L'approccio al mondo orientale, al Giappone nello specifico, cioè da dove arriva? C'è l'appassionata dalla cinematografia o...? Da una cosa un po' particolare, divertente, non so se posso raccontare. Racconta, tagliamoci. Allora voi sapete che io nasco come chimico, poi sono diventato erborista nella facoltà di farmacia di Parma, e dopo varie peripezie arrivo ad avere questa mia erboristeria nel centro storico di Sassobaggione Terme. In un lontano luglio, una giapponese entrò nel mio erboristeria, chiedendo se io conoscessi il più grande esperto di olio d'oliva al mondo che potesse venire, andare in Giappone a raccontare la storia dell'olio d'oliva nell'uso cosmetico, in quel periodo avevo veramente mezzo ghello in tasca, e preso dallo spirito avventuriero, dallo spirito da sognatore, e ho detto che fortuna che ha lei, siamo davanti al più grande esperto di olio d'oliva, e a quel punto lì lei mi ringraziò, ci sentiamo presto, e ho detto vabbè, un caso, invece lei mi scrisse una mail. Io a quel punto lì ho detto, caspita, e adesso devo soltanto diventare il più grande esperto di olio d'oliva. Avevo circa 6-7 mesi, sono diventato, ovviamente sapevo tutto, e nel febbraio del 2010, quando troveri, stavo uscendo la presentazione del primo lavoro di me, sono andato in Giappone, dall'inizio alla mia esperienza giapponese, da lì mi innamorai follemente del Giappone, e non proseguì la mia carriera come esperto di olio d'oliva in cosmetica, però iniziò la mia grande passione per il Giappone, per l'Oriente, da lì conobi Federica, che anche lei aveva toccato a malapena quella parte del mondo, Federica ha girato il mondo, è lungo e è largo, ma quella parte ancora mancava, e allora insieme abbiamo iniziato a girare l'Asia, e perciò io parlerò sempre al plurale, tranne quando parlo di composizione, perché ho sempre visto me come una band, e perciò io e Fede siamo veramente una cosa sola, e parlo sempre al plurale, tranne magari quando parlo strettamente di composizione, e perciò da lì anche l'idea di poter fare una trilogia senza tempo, dedicata al nostro amore per l'Asia, che poi fu India, Indocina con Laos, con Encore do Thump, e Sogni per il Giappone. Quando avevo conosciuto Meo, la prima volta, il profumo che più mi aveva colpito, meglio è stato Encore do Thump, e mi ricordo che poi quando noi avevamo parlato, tu mi avevi detto che un sacco di gente non rivedeva Meo in Encore do Thump, perché comunque era abituata magari a note un po' più cupe, passano in termine, e quando poi ci ha raccontato la storia di Encore do Thump, è stato tutto chiaro, quindi condividi con tutti noi la storia di questo profumo, che è arrivato in finale a Los Angeles, non è da tutti, e complimenti. È un'emozione grande, già è un onore per noi essere là, con l'unica sola ansia di azzeccare l'outfit. Beh, scusami, colorato? No, assolutamente completamente nero. Hai ragione, hai ragione, sì, non si sente il classico Meo, perché non è stato il classico tempo di Meo, ricco di pensieri, di oscurità, di riflessioni, ma è stato Meo in quel periodo che aveva soltanto voglia di raccontare l'amore per la donna e la propria vita. E in quel momento lì non deve essere soltanto umile nella creazione, ma darti anche un punto, una sfida, e per me le sfide sono molto importanti, diventa una corsa contro te stesso, no? Non ho mai pensato di creare il meglio di qualcuno, semplicemente soltanto una corsa con te stesso. In questo lavoro, in Ancoro Tampo, ho sempre detto, ok, spogliati di tutto, di tutte le tue oscurità, perché possono anche non appartenerti nella vita. E quando guardavo il volto di Federica in quei momenti, avevo soltanto voglia di di regalargli un sorriso, un momento di felicità. E in queste notti di Osmantus c'è tutta la felicità di un viaggio d'amore, come è stato il viaggio in Laos, i tè che bevevamo sulle sponde di Luan Papanga. È stato un viaggio strano in Laos, perché siamo comportati come se fossimo degli amanti ai primi giorni, no? E partimmo senza nessun tipo di programma. Penso che avevamo soltanto i biglietti. Zani in spalla, noleggiavamo queste biciclette e passavamo le giornate a girare per le risaie e divertirci, a sorridere degli accadimenti. Ero fito in una buca, colma d'acqua con la bici, pensando che fosse una pozzanga, in realtà era una vorace. e poi c'è un viaggio così, un amore così, e soprattutto lei. Parli di un viaggio, però in realtà sotto il naso hai delle note che ti parla di casa, pur essendo perché hai quella calma, proprio la pace, no? Sono a casa. Hai detto una parola bellissima, perché in realtà da dove nasce l'idea di usare lo smantus. Noi nel periodo, in quel periodo brutto, abbiamo piantato come segno di speranza cinque piante di usmantus in casa, no? E ancora non avevo l'idea di creare ancora l'autompo. E perciò quando poi è iniziata la fioritura dell'usmantus che è circa l'ottobre, portavo fuori la lunetta la sera tardi e ritornando a casa sentivo questa sensazione di albicocca che arrivava al naso e mi ricordava incredibilmente l'Asia, l'Indocena. Proprio in quell'aspetto floreale esotico che ho amato il Laos, ho amato quel viaggio, quei ricordi e ho amato anche la speranza. E oggi infatti ho scelto tra le varie cose una materia prima, simbolo. Tra l'altro, prima quando dicevi che di pioggia l'avete beccata tanta, lo si sente, cioè dal profumo la pioggia la senti. Esatto. C'è questa nota umida. La parte della Magnole, la parte del Ciampaca, fanno quel gioco, ricreano quella sensazione verde, bagnata dell'Asia durante i monsoni. Mi ricordo questa piccola casetta a Luan Propang che era avvolta a questo giardino e la mattina ti svegliavi, c'era un'area stupenda, il monsone tutta la notte aveva sfogato la propria energia, no? E tu sentivi queste note veri, trasparenti e fiorite incredibili. Era soltanto amore in quei giorni lì. E nello Smantus, che per me è il protagonista di questo lavoro, ho amato subito quello che per me è la sua triplice sfaccettatura. e l'ho scelto oggi come protagonista delle materie prime perché lo meritava. Grazie. Grazie. Questa è un'assoluta di Smantus e quando lo si sente, Smantus in natura, senti maggiormente la polpa dell'albicocca, un po' più leggera, un po' più suave. Nell'assoluta, ed è anche lì la parte più difficile nell'uso dell'assoluta di Smantus, nel trovare quello che per te è la perfetta quantità, dose, che ne permette di sviluppare tre sfaccettature, quella iniziale di albicocca, quella parte più grassa e infine la parte cuoio, leather, leggermente animale, che tu sentirai. E poi nell'accordo di ancora... Che si sente moltissimo. Sì. Poi nell'accordo invece del profumo lo senti benissimo, nell'accordo con la magnolia, il champaca. Lì per me c'è tutta l'Asia e non avrei mai immaginato di far uscire un profumo con un accordo floreale così, soprattutto magari dopo Varanasi. Perché ho capito bene, un sciocco olfattivo passando da Varanasi ad Ancor. Però mi sono sempre ritenuto un profumiere libero. e per me questo è estrema libertà di non dover vivere sotto le redini del mercato, ma di provare a contare te stesso sempre. Voi avete vissuto l'esperienza del nostro atelier, avete visto che... quanto riesce a isolarmi dal mondo e questo è fondamentale per me e per il mio lavoro. Se in Uncle Tomp abbiamo il mio romantico, in spirito abbiamo il mio erborista, in ogni profumo noi abbiamo un mio diverso. Perché alla fine noi siamo fatti da sfumature, no? E le sfumature ce le portiamo dietro per tutta la vita. In Uncle Tomp c'è il mio ragione estremamente romantico e che fatica ancora adesso a parlare di Uncle Tomp perché mi vende a piangere, perciò è... forse perché amo amo follemente la donna che l'ho ispirato, perciò è... è il mio estremamente romantico. In spirito c'è il mio erborista, c'è il mio legato al trascendentalismo di Thoreau, perciò estrema fusione con la natura e la dedica da Emily Dickinson. Nell'oblio c'è il mio influenzato da Terzani. Per me Terzani è stato un grande maestro spirituale, lo è tuttora, e anche un ricollegamento al mio che ho d'offisso che era la memoria. In Baranasi forse se vuoi il mio più traveler, più viaggiatore, più scopritore. Beth Baker. Sì, proprio... forse più indiana c'è... la voglio vivere fino in fondo e vi voglio portare... Lo faccio. E in sogni invece c'è il mio amore per il Giappone, c'è il mio più meditativo che poi il sogno è proprio dedicato al mio grande amico Makoto Rizaki perché lui è il mastro cappellaio che crea i cappelli che porto io. caspita... Potevo raccontarti anche una cosa molto secret. Ma penso che sia un momento per tutto nella vita e perciò ve lo racconto adesso. Un po' di anni fa quando conoscete una volta Makoto e... dicono a San Paul e ci ha detto... questo agente ha detto guardate se volete condividere lo showroom con questa coppia che fa cappelli si chiamano Rizaki e lui è giapponese e lei è svedese ok, cosa interessante condividiamo questo spazio. E... condivido questo spazio e in quel periodo io sto soffrendo di molto stress e perciò stavo iniziando a perdere tanto i capelli e con Obi Makoto e Karen e... tra parentesi ci si rappresentammo e... il Natale prima Karen aveva regalato un narcotico a Makoto non sapendo niente di una storia così. Perciò quando ho incontrato a Makoto ho incontrato a Karen ho fatto una connessione e ho detto caspita sto perdendo i capelli e per me è un piccolo dramma no? Come può accadere ognuno c'è il suo io e allora da lì in poi da quel giorno in poi ho indossato i capelli di Makoto e me li sono più tolti allora non andavi col cappellino e ci vado in circa da 7-8 anni in giro sempre col cappello naturalmente ho una collezione di capelli Urisaki e... la soluzione alla travizia era il cappello era così facile non è così facile trappiando trappiando ma che ci frega noi è un amico che devi fare è un amico giapponese che fa i capelli e allora da lì è nata l'amicizia poi è nata un'amicizia folle con Makoto e Karen e condivideremo anche una cosa molto speciale perché io non torno a casa da 8 anni e anche io ho un rapporto un po' particolare con la Sicilia e ci torno a giugno con lui e... deduco non sia mai stato in Sicilia lui non è mai stato in Sicilia neanche Karen e perciò ci faremo questo viaggio insieme in Sicilia pensate che quando usci Sogni e noi non abbiamo evaluator interni in Meofushuni però per questo per lavoro e Sogni ho usato lui come evaluator è stato lui a dire ok il profumo è pronto a Makoto quando gli ho chiesto di dirmi se lo riportavo in Giappone e lui metto piangendo mi ha detto a me sono tornato nella prefettura di Ise nella mia infanzia e lui ho detto ok è chiuso qua il lavoro come stessi cosa succeda ho chiamato in Italia ero in Svezia quest'estate a portargli questo campione di Sogni e ho detto ok Makoto è pronto è finito questo è sogni poi quando l'ha ricevuta la prima bottiglia mi ha scritto un messaggio penso uno dei messaggi più belli che mi ha ricevuto in vita mia e sono queste le cose che rendono il mio lavoro speciale è questo che che ringrazio ogni giorno è ho una fortuna incredibile una fortuna incredibile e perciò mi attengo stretto e direi che a questo punto parliamo di lui parliamo di lui parliamo di lui portaci in Giappone anche a noi io volevo andarci in Giappone è una di quelle cose che devo fare nella vita chissà quando ecco allora intanto ti ci porto io in Sogni c'è tutto per me c'è tutto il Giappone Sogni non è carico di viaggi recenti in Giappone ma è carico di memorie dei miei viaggi passati in Giappone sono le memorie dell'infanzia di Makoto perché io chiese a lui ho detto Mako io non posso andare in Giappone in questo periodo qua è tutto chiuso aiutami come facciamo allora lui iniziò a raccontare la sua infanzia lo abitava nelle pretetture di Ise e lì è una zona in cui lavorano in legno poi ciò mi ha detto meo io ho queste idee questi ricordi del legno ricordi del tatami che sono indelebili nella mia vita lui come me è stato strappato dalle sue radici e portato in Svezia io dalla Sicilia al nord dell'Italia e poi ciò ho usato queste cose qua i suoi ricordi e poi il riso il riso perché è la mia prima memoria giapponese olfattiva giapponese mi ricordo queste colazioni nei Ryokan dove il riso mi ha portato al mattino e poi c'è quando ho pensato al sogno a quel momento in cui ognuno di noi si perde non capisce se è sogno o realtà quando ci diamo giro mi copro e continuo a sognare è in quel limbo temporale che poggia il suo corpo questo profumo il momento in cui sente il riso è la nuova alba il nuovo sogno il nuovo tempo e lì poi tutto quello che è la citazione mia sulla cultura giapponese per me è una sorta di film di Kurosawa questo questo lavoro perciò il risveglio haciato il riso il libro con le novelle di Kaobat è letto la notte prima il bonsai con i suoi forbici lavorato è lì il bonsai è nelle note di Pinus pentafilla il bambù bagnato dalle piogge autunnali la peone nel tokonomo il legno del tatami tutto tutto è armonia estetica giapponese come in un film di di Kurosawa o in una musica di Sakamoto tanto incredibile qui la nota di riso come si ha cioè solitamente sono abituato a percepire il riso come una nota super eterea super volatile qui è eterea perché va a creare quella nebbia però è super fissato cioè qui la domanda che volevo farti che esula un po' dalla poesia che lavoro tecnico c'è stato dietro per tenerlo così fissato cioè il riso come fa a rimanere così allora presentissimo prima di tutto in molti mi hanno chiesto com'è stato fatto l'accordo di riso in realtà l'accordo di riso non è stato fatto ma è proprio un'assoluta di riso che è stata presentata al Simpar lo scorso giugno poi c'è nella scorsa edizione l'ultima edizione del Simpar e in realtà io l'avevo ascoltata ho avuto la possibilità di ascoltarla 4-5 mesi prima perciò quando l'avevo ascoltata ero a Gras ho detto ok stavo già lavorando a sogno ho detto ok è il colpo di genio di questo del lavoro che poi comunque doveva essere nella mia utopia un legnoso perfetto come fosse l'anello mancante esatto caspia l'anello mancante una nota gourmand in un legnoso ok la parte complessa in questo lavoro è la fusione la fusione con i legni e soprattutto la parte nocciola sesamo che è da tenacia a questa materia prima è una materia prima che vi dico subito ha un infra bassissimo un infra bassissimo perciò la possibilità di non poter neanche agire sulla sulla quantità non potevo metterne tantissimo perciò dovevo per forza costruirgli attorno una struttura un rio kan che tenesse in piedi tutta la sua storia qui la nota è al primo sentore gourmand ti riporta al cereale ti riporta a notte leggermente polverose e in alcune sfumature addirittura che ti riportano a qualche isolato dell'iris quasi floreale sì 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 e quella parte polverosa amida esatto e poi a un certo punto senti questa nota di amido che è proprio il tipico di quando tu cucini il riso apri la ciotola apri la pentola e senti questo vapore caldo che ti arriva al naso e e quando ho sentito ho detto ok e lei il colpo di genio io chiamo colpo di genio ma per me è quella sorta di fortuna che devi sempre avere secondo me e ce l'ho sempre avuta in ogni lavoro cioè se tu dici c'è una colpo di fortuna per non dire altre parole francesi c'è c'è sempre cioè che può essere che sbanti la testa contro l'organo al faticio guarda ecco riso 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 e qui è stato che mi trovavo a grasse per altre cose sono stata visitata la cale senziera con cui stavo lavorando a a sogni e da lì perciò è nata l'idea della della combiazione in questo ipotetico legnoso perfetto tra l'altro aggiungo che è una cosa che ho notato solo adesso anche quasi quella sensazione di riso soffiato la cosa fantastica che io amo del nostro lavoro è questo è il fatto che tu lavori un anno intero mesi ad una poetica ad uno storytelling in ogni lavoro senti mi trovo ad un evento un giorno e una signora emozionatissima aveva comprato sogni mi ha detto amo follemente questo profumo mi riporta indietro loro io ho detto è stata anche lei in giappone ho detto no mia madre da piccola mi faceva questo dolce con il riso e niente ho ritrovato mia madre in un attimo e lì ti cascano le braccia ti spogli di tutto lì è il centro di gravità di cui parlava il grande maestro che lo trovi all'improvviso ma lo trovi senza bacchette magiche senza senza marketing di qualsiasi tipo quello è il miracolo quando io parlo di miracolo non so quelli è il miracolo cioè quando leghi una persona un tuo lavoro ad una sua memoria del passato quello è il miracolo è la danza del vecchietto nel funerale dell'ultimo episodio di dreams di kurosawa cioè quella gioia è la gioia dell'avvenimento cioè il passaggio non so ed io mi emoziona tantissimo questo lavoro da come lo dici sembra che sia anche l'unico motivo per cui tu fai questo lavoro e diciamo è molto nobile non mi interessa nient'altro il mio lavoro mi interessa soltanto segnare i capitoli della mia vita perché poi a 90 anni 93 94 potrò raccontare insieme a Fede ti ricordi quella quella volta c'è un capitolo della vita che ormai sono segnati sono fatti ormai sono indelebili e quando riesci a condividerle con le persone è un'esperienza magnifica non è non è soprattutto quello che è il nostro lavoro il mio e il vostro no che poi dopo siamo aziende no siamo aziende non vogliamo essere cioè non voglio essere ipocrita o no siamo aziende però però voglio viverlo questo questo sogno a modo mio grande guarda posso approfittare di un bicchiere d'acqua sì le due le due le devo bere anch'io tu non lo ricordi ma sabato a un certo punto c'erano delle persone che chiedevano degli iris e ovviamente ero come sempre in mezzo alla strada a far sentire i profumi in mezzo alla strada come uno scappato di casa e avevo portato fuori un po' di iris a un certo punto Matilde arriva la lascia un secondo a fare con i clienti torno e vedo no aspetta vedo una bottiglia sul tavolo e non so perché era di taglio io non ho visto nel nome del profumo né le note quindi non so perché ho iniziato a parlare di sogni quindi ho iniziato a raccontare l'assoluta di riso il tatami il giappone tutto quanto e sta ragazzo poi prende il profumo fa ma sa mica di questo faccio e tra l'altro nel mente dicevo ma perché Matilde ha dato sogni cosa c'entra sogni cosa c'entra sogni e invece lei aveva fatto la cosa giusta io non so perché ma proprio mi è ma tra l'altro la Matilde è innamorata dell'obbligo l'obbligo si c'è proprio l'iris che usa più di si si tra l'altro l'hai portata via da un altro iris che infatti lo sentiva tutti e lo presentava con grande amore adesso l'obiettivo è farla passare dal suo smanto preferito a incor quella sarà la missione dei prossimi mesi ma sai cosa questa cosa qua che mi dici mi lega molto anche alla nostra decisione ma non è una decisione è una cosa naturale di non facilitarvi il lavoro nei nomi nel senso che di solito non sbaglio non so cioè proprio nel dire non so magari avrei potuto chiamare l'obbligo iris iris cambogia e invece l'obbligo in realtà nasce da un momento molto particolare perché è un momento in cui ero veramente dentro tutto il discorso dei terzani sull'Asia io ho fatto una tesi di laurea sull'Alzheimer perciò la memoria è sempre stato un chiodo fisso nelle mie teste i concetti sulla memoria tutti i meccanismi della memoria perciò mi occupavo e poi c'era un argomento che per me era molto caro molto molto caro e allora ad un certo punto arrivo provocatoriamente quel giorno a la fede dopo aver letto Fantasmi che parlava comunque della strage in Cambogia e parliamo di anni comunque recenti anni 70 e io ho detto fede ma e se il bello fosse dimenticare anziché ricordare lei da meravigliosa donna donna marketing segna subito la frase dopo pochi giorni ci troviamo ci troviamo con un biglietto in mano direzione Cambogia partiamo per la Cambogia a far cosa a cercare la dimenticanza come salvezza della vita e perciò in questo lavoro non volevo naturalmente raccontare il mio scopo non è raccontare il profumo della Cambogia gli odori di quel fluttuare sul Mekong volevo soltanto tornare da là e dare alle persone quella sensazione di beatitudine che a volte nella vita serve e ogni tanto va bene se si dimentichiamo e l'obbligo già subito nel labirinto luminoso dei licris poi arriverà l'erba mate la nota burrosa e l'iris la polvere arriveranno tutto ciò che ti fa dimenticare per un attimo l'essere perciò l'obbligo per me è quella frase che tu dici te stesso e gli altri dimenticatemi io voglio dimenticarmi di me stesso un attimo poi tornerò sarò sempre ma ho bisogno in questione dovevi dimenticarmi l'obbligo è quell'attimo quello stato mentale in cui hai bisogno di isolarti e di riconciliare te stesso con te stesso e perciò le note polverose finali che raccontano i tempi di Angor Bat raccontano quel perdersi nell'assoluto tuo penso che questa possa essere l'intervista più pesa forse della vostra serie doveva essere una roba scanzonatissima sta diventando siccome avendo cioè lavorando con Matilde tutti i giorni la vedo spesso che si vaporizza l'oblio e le chiesi ma come mai lo utilizzi vai a usarlo sempre e mi fa ma sono sono agitata sono sotto esame mi rilassa è fantastico e è quello torniamo al discorso di prima hai fatto centro perché per me è la cosa importante ma ve lo dico sinceramente non è che quando presentiamo un profumo tu mi devi dire che è buono è buono non mi interessa quello mi interessa guardare i tuoi occhi e perciò capire se tutto il lavoro che c'è stato nella connessione tra la formula e il racconto ha trovato il suo centro di gravità permanente perciò è quando sentire le parole di Matilde che mi mi fa gioire si faccio sentire facciamo esempio ancora tu mi dici che tristezza che metto addosso cioè no ho sbagliato qualcosa e l'errore è soltanto mio perché la connessione lì che sta la connessione segreta secondo me nel nostro il nostro lavoro la connessione stretta strettissima tra la parola e il profumo io per l'oblio ho scelto una materia prima che per me era il simbolo e questo è stato veramente il colpo di fortuna qui non sapevo veramente come chiudere il lavoro e giravo mani in tasca come faccio spesso in studio e pensando all'essere umano mentre la feve assolutamente si gestisce un'azienda in realtà l'abbiamo vista la tua poltrona la poltrona di riflessione ero in quei momenti in riflessione quando mi giro e vedo un libro che parlava della storia di questa famiglia che da generazione coltivava l'elicriso in Corsica lo prendo e ho detto oddio wow mi arrivò la luce come la luce dell'elicriso immortale come l'essenza della sua essenza e ho chiamato da Z e ho detto mandatemi un campione di questo qua che poi ho trovato la soluzione mi è arrivato ed era la soluzione e ce l'hai portata yes ed è l'elicriso Corsico tra l'altro ecco questa è forse uno dei pochi odori che io ogni volta che lo sento cioè io sono in Corsica su l'elicriso bisogna fare un appunto molto importante quello che io ho usato in l'oblio è un è un distillato perciò sentite una nota più luminosa erbacea più classica aromatica per me più luminosa mi ricorda più la luce mi riporta i momenti più soavi se volete e vi ho portato naturalmente anche l'assoluta di immortale che è molto più utilizzato oggi però non raccontava al meglio quello che volevo nell'oblio però è importante che ascoltiamo insieme la differenza di queste due materie prime questa entra in un uno spettro molto più complesso la nota di tabacco è molto più marcata quasi ambrata quasi animale paglia bruciata note leggermente fumose insomma qui la parte mielosa è molto importante in questa assoluta insomma si dite che è molto più ambrata complessa molto più complessa perciò sono due note che raccontano in maniera differente la stessa cultivar siamo di fronte alla stessa cultivar perciò coltivata e raccolta in Corsica ma due mondi completamente diversi nel primo io cercavo il labirinto luminoso e la sua vita nella seconda avrei raccontato quasi un mondo più sotterraneo più se volete più intrigante nascosto adesso quel tempo poi la nota di tabacco arriva veramente veramente forte c'è questa nota di quasi tabacco bruno che mi riporta in alcune notte del tabacco bruno di Little Song insomma due lavori differenti e avevo piacere portarvi tutte e due anche Luca mi aveva fatto sentire i paciuli paciuli alla capire come si dice in cui mi aveva fatto sentire uno che era una figata perdeva tutto quella tuffa che so che a te piace tanto oggi sulla profumeria moderna c'è tantissima ricerca sul molecolare poi c'è sullo spogliare alcune materie prime culto forse anche di alcuni decenni fa di loro caratteristiche notte caratteristiche il paciuli è un esempio incredibile sì già queste sembrano giorni e notti nel vero senso la parola però la cosa fantastica è la versatilità che tu hai nel tuo lavoro perciò facciamo esempio in narcotico il paciuli che abbiamo non è frazionato e invece in luce si puoi usare la stessa materia prima ma in differenti formule e poi soprattutto per me è importante la storia e perciò siccome è importante la storia ogni materia prima racconta la sua c'è veramente un limite talmente sottile nella costruzione dell'uso delle materie prime che è veramente difficile io sinceramente non lo faccio mai non lavoro mai vado veramente a emozioni poi certo c'è una parte dopo che è la seconda parte del lavoro che è molto più chimica molto più attenzione tecnica all'inizio è ispirazione di getto di emozione di impeto e dopo inizi a arrangiare il lavoro e allora lì ci vai di tecnica e capisci inizi a ragionare sulla parte aromatica la parte erbacea fiorita comunque la componente erbacea del distillato è molto importante questa è è proprio è sole è sole sembra quasi un agrume in certi momenti a me rimanda anche alla parte di torba di olio quando si fa l'olio d'oliva quindi c'è tutta quella parte olivassa e parte grasa e d'altronde abbiamo il massimo esperto sicuramente avrà portato avanti i suoi studi anche dentro la profumeria questa è la mia arrivata in Giappone senza quella quella spinta fondamentale di fiducia che avevo nei miei studi nei prossimi sei mesi poi vengo dalla da materie scientifiche perciò in cui quando fissavi gli esami all'università chimica organica per me è stato un grande nemico era proprio il drago dell'ultimo livello dei videogiochi sei chimica organica lavoro data tre o quattro volte ogni volta era il mostro ultimo livello l'ultima possibilità prima di laurearmi dovevo ero carico proprio il drago armature e tutto e perciò anche lì è stato come l'olio in Giappone è molto divertente come sia molto diviso fra quelle che piacciono a me da questa parte in maniera proprio oltre ogni limite perché c'è spirito è proprio quell'aromatico che io lo sento e dico magnificata e anche quando ne abbiamo parlato insieme comunque c'è tanto di te in questo profumo per i miei gusti personali quelli che almeno oggi sono i miei gusti quindi note comunque fresche non particolarmente dolci ricercate classiche ehi stai attento vedrai capito un giorno gli faccio eh ho fatto questo ero dato a a Savigliano comunque siamo andati al museo dell'essenza a Savigliano ho fatto un profumo sono arrivati faccio una gara ho fatto un profumo fighissimo come l'hai fatto faccio eh giranimo caldamomo poi ho messo delle punte un po' più aromatiche in apertura vabbè buono per un oltre 60 anni buono se hai più di 65 anni ho proprio il messaggio ho proprio il messaggio guarda quando farò il mio profumo buono aromatico tu non avrai neanche una profumo ma allora cosa fa adesso lui si alza per spirito o lo teniamo ma spirito in realtà è a me che critica non a te è il mio approccio alle note aromantiche maestro ma in realtà con spirito ho un ricordo preciso mi ricorda sempre ritornando sul discorso però qua è molto attuale perché spirito secondo me è un back in the days super però reso attualissimo la sfida secondo me è proprio aver davanti sotto il naso esatto modernizzare una lavanda io ti dico una cosa spirito è stato l'unico lavoro che dopo sei mesi di lavoro ho detto a me stesso non sei capace cioè non hai i mezzi per fare quello che ti desideri e da una parte è stato positivo perché mi sono dato conto di una bella capacità per farlo voi sapete che nel mio lavoro nasce prima tutta la storia tutto l'accadimento perciò venivo da Little Song venivo dal concerto di solitudine come esperienza comunque da dover patire per creare invece in spirito era nato da un libro che mi aveva regalato Federica che era i vecchi erbarie di Emily Dickinson e fino allora non conoscevo tantissimo Emily Dickinson e dopo sono diventato il più grande esperto di Emily Dickinson e in realtà ho passato un anno leggendo tutte le opere tutte le poesie e le lettere di Emily Dickinson e nel suo tempo scrivendo lei in maniera immaginare questo qua nel Massachusetts è un viaggio immaginario ma soprattutto ero tornato al mio primo amore il mio primo amore era la botanica è la botanica l'erboristeria io amavo il mio lavoro follemente per me era veramente una missione per me la missione era la pianta la pianta e come diceva Rilke io sono un mitevento ma tu sei la pianta tu sei la cura e per me era quello è una cosa che ho anche tatuato sulla mia pelle perché è una sorta di mantra è stato per me perché la pianta era la cura poi diventata la visione verso la botanica è diventata non più la cura ma è diventata il sogno onirico nel far viaggiare gli altri e perciò in Spiro c'era questo veramente desiderio di creare di riportare Fougère ad oggi e a un certo punto mi accorgevo che non ero capace sono dei due gli accadimenti fondamentali uno è stato andare a riprendere tantissimo i grandi maestri del Fougère e studiare è una cosa complessa perché ti riporta a capire come i maestri giriscono e lì inizi a capire che nella mia formula ciò che non andava era il too much invece dovevo togliere 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 per arrivare all'equilibrio perfetto e l'altro è stato riprendere i miei vecchi erbari risentire nei vecchi erbari tutto quello che era l'essenza di cui raccontava anche Emily Dickinson e qui ho la prima cosa che ho portato dal mio archivio che adesso vi faccio vedere e innanzitutto questo perché sono gli strumenti fondamentali del mio lavoro oltre alla parte chimica che voi avete visto e la parte del laboratorio ne esiste uno per ogni profumo ok perciò ogni profumo ha il suo diario ogni profumo ha la sua storia è molto importante per me fissare sui diari prima di di poi fissare su computer perciò questa è la parte tutta di spirito la parte sugli accordi già sognavano in testa la materia prima principe perché la materia prima principe in spirito per me è stato una materia prima che a un certo punto ho anche pensato di togliere perché non capivo che non riuscivo ad utilizzare ed è la radice di Angelica clamorosa ecco clamorosa quasi come la lavanda dell'Himalaya esatto che prima o poi utilizzerò e qui siamo di fronte per me ad un permettete una parola ad un mostro sacro e le materie prime terra erba profondità citrica citrica sì la parte leggermente speziata la parte pepe nero perché l'Angelica era l'Angelica innanzitutto radice era una pianta officinale che utilizzavo tantissimo nelle mie tisane nei miei infusi perché appartenevo un po' alla vecchia scuola degli erboristi non quella dei beveroni ma appartenevo alla scuola tisana infuso decotto tintura madre gemmo derivato la vecchia scuola della medicina mediterranea e pepe nero l'Angelica utilizzavo tantissimo quando ho iniziato a lavorare a spirito il legame con Amy Dickinson era qui era nel legame profondo con la terra e in alcune sfumature sento anche la terra arida dell'estate quella che magari prepari per seminare o per piantare è una è una terra prima che mi porta in profondità mi lega tantissimo a natura la parte aromatica è meravigliosa c'è altro anche se la metti insieme all'illicrisio allora l'immortale avevo già utilizzato perciò l'idea era quella di provare a evadere da quel mondo infatti il blend che invece ha in spirito è caomilla e carota semi e adesso andiamo a prendere una cosa che avevamo fatto fare quando uscì spirito non esistono più ne esistono ancora tre pezzi uno lo è sentito per me e due arriveranno a voi e sono tessuti in cotone che Federica avevamo fatto stampare con spirito questa è l'angelica poi il tessuto è stato impregnato in questi bagni di te a casa nostra e poi tirate asciugate il sole tagliate pezzo per pezzo con spirito adesso ci facciamo il quadretto e lo mettiamo a voi ma è molto grazie grazie a voi grazie a questo qui io associo un ricordo preciso che sono le domeniche a casa dei miei nonni in Cascina la domenica a mio nonno si faceva la barba lo trovo in camicia con questa barba appena fatta appena rada avevi questo mix di dopo barba e di tutta questa parte di aromatiche di campi che avevi dietro più verso l'estate perché stavo in estate lì quindi hai questa parte un po' asciutta che si fonde con queste pienezze verdi e questo qua in realtà è uno dei dei pochi fugironi che indosso perché non sono particolarmente amanti però lui di rado me lo indosso ed è forte perché è un po' come vestirsi dei valori di nonno è come riportarlo su di me è forte come ti dicevo è un back in the days super attuale però sì perché avevo uno scopo fondamentale in spirito era quello di raccontare tutto ma con eleganza cioè portare l'uomo o la donna ad un'eleganza sopraffina infatti questa idea del lembo nasce da una parte della poetica di spirito in cui dico in un piccolo lembo di tessuto o di carta ho trovato dei semi linfa e terra in un piccolo lembo di tessuto o di carta ho trovato erbe state nel tempo le erbe state nel tempo non è soltanto l'erbario ritrovato ma le erbe hanno sempre raccontato per me le nostre radici profonde perché si correva nei campi perché ricordo anch'io delle giornate bellissime con la famiglia in campagna e per me questa frase erbe state nel tempo ha un doppio senso per me non so tanto che sono state nel passato ma è anche un desiderio profondo di dire a natura state nel tempo della mia vita non andate mai via mi ricordo la prima cosa che ci avevi detto quando ci avevi raccontato spirito che cosa vi ricorda e lui ti dice mi ricorda la cascina col nonno io è un profumo che mi mette di buon umore e ci hai detto sì se lo fai sentire una persona anziana la persona anziana ti dice che ricorda la solitudine proprio per quasi come se la pianta facesse da testimone a quelle che sono le nostre vite quello era stato un progetto che avevamo fatto con l'università in cui attraverso delle memorie olfattive che mi avevamo chiesto di portare avevamo fatto una sorta di esperimento di gioco ludico con le persone e vedevi che tutte le persone anziane le note che riportavano all'orto riportavano alla campagna segnavano tutto in questa sorta di questionario la parola solitudine e invece nei ragazzini riportavano ragazzi giovani portavano questa risposta sulla campagna estate vacanze felicità il concetto di memorie olfattiva che oggi è molto è molto abusato secondo me perché si parla di memorie olfattiva ma si ha paura di portarla lì nel profumo che poi va sul mercato dobbiamo avere il coraggio secondo me di rischiarla perché dico sempre una parola molto ormai la gente è anche stufa di sentirla però dobbiamo rischiarcela noi a raccontare qualcosa di diverso in queste piccole bottiglie ti la rischi devi rischiare devi essere te stesso quando un sacco di ragazzi giovani mi hanno chiesto durante l'ultimo salone cosa dovevano fare cosa dovevano raccontare ma non devi raccontare niente devi solo raccontare la tua vita perché la tua vita è la cosa più speciale che ci possa essere è l'unica cosa speciale che tu puoi raccontare la vita di ognuno di noi è diversa e perciò è la cosa più importante che tu possa raccontare e le memorie olfattive quando usiamo la parola memorie olfattiva sì ok dobbiamo usarla ma poi dobbiamo veramente cercare di portarla nel nostro lavoro se no è un profumo buono 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 ma questa cosa poi traspare nel senso che il tuo punto forte è proprio questo ciò che mi colpisce di te a livello di di quello che fai è proprio questo trasporto no cosa succede come spirito ma anche per esempio con con Lidl Song la cosa che mi colpì è che quando lo senti la prima volta ti ricordi a momenti avevo difficoltà quasi a a tenerlo sotto il naso no ce l'abbiamo il naso perché vabbè poi arrivavo da un periodo particolare sei anni di relazione finita mi era da poco mancata nonna e quindi sentirlo per me mi ha smosso quelle corde lì un po' di solitudine di tumulti personali invece adesso riesco a ad indossarlo sono più sereno no perché sono arrivato un momento in cui ho riconosciuto che anche quello fa parte di me e lo stesso succede col profumo cioè lo associo sia magari a quei ricordi però la solitudine alla fine fa parte di ognuno quindi adesso riesco a metterlo con più tranquillità con più serenità e non è facile trovarlo questa questa smossa da un profumo no è una cosa così intangibile eppure riesci a toccarti proprio delle corde ma sai che una cosa che succede spesso durante gli eventi è che le persone si avvicinano e mi dicono ah ma sorridi tanto dovevi essere preso male c'era nel senso e ho detto io non so perché qualche volta la gente si stupisce ma sorridi tanto sei una persona felice e ho detto sì sono una persona felice faccio il lavoro che amo sto bene sto bene che ho tanto tempo per riflettere sul mio lavoro e nel mio lavoro c'è tanta riflessione nella mia vita come ogni cosa la vita non può essere solo sorrisi e neanche solo racrime c'è un equilibrio di accadimenti che ti portano a a dover viverle tutte queste sfumature io vivendo molto circondato dallo spazio del tempo mio che mi sono voluto ricreare ho tanto tempo per riflettere su tante cose questo penso che sia il segreto del mio lavoro cioè potermi raccontare lo sapete venire su un'altra cosa fondamentale del mio lavoro la musica che influenza tantissimo tantissimo ogni lavoro perché crea una sorta di ambient intorno ad ogni profumo e per quel momento lì soltanto quei suoni raccontano raccontano questo in sogni è stato Sakamoto in ancora tempo è stato Sebastian Plano e in ogni lavoro c'è c'è una sonorità secondo me secondo la mia idea non posso iniziare il lavoro coi Depeche Mode e finirlo con i Gorilla una cosa che mi succede soprattutto anche in negozio quando poi mi capita di strutturare un percorso magari con un cliente dove vado magari a raccontarli 4-5 via dicendo i tuoi fragranze è come se nascessero proprio da questa sinergia che si crea con la musica nel momento della creazione cioè se tu vuoi sentire un encordo tom uno spirito eccetera quando le vai a sentire con determinate note di sottofondo è come il vino va proprio a riaprirsi no? cioè quando vado per esempio a vaporizzare un little song con sotto una zimmer e toritri di lacrime capito? è come se se si completassero con la assolutamente sì assolutamente sì perché poi è come se dentro quel liquido finisse ogni cosa ogni emozione ma penso non come no? penso che succede è così non ditemi che Babbo Natale non esiste cioè per me è il mio Babbo Natale che esiste cioè io penso che finisca ogni cosa della mia vita dentro una bottiglia gli umori le sensazioni le gioie le paure ogni cosa finisce lì il nostro lavoro è carico di tante cose no? e perciò tutto deve finire lì è giusto che sia così e little song che pensa l'avevo già detto sono lavori che io non ho mai indossato ma perché mi riportano mi riportano in certi momenti che al momento non sono ancora pronto di vivere è little song è varanasi è notturno sono momenti che ho bisogno ancora di metropolizzare prima di poterle rivivere e nel nel mio archivio di ieri ho trovato anche un'altra cosa invece di questo ne sono rimasto soltanto due però ve le dono volentieri allora è una cosa che ho preso a varanasi ok e una mattina erano le quattro non non dormivo arrivo sulle sponde del gatto iniziavano le puie delle varie indiane ancora c'erano residui delle celebrazioni che avvenivano e c'erano questi personaggi strani tre personaggi c'era una mucca completamente nera con un simbolo rosso sulla faccia un piccolo bambino come ho mai capito se era un uomo piccolo un piccolo bambino vestito da re e un'altra persona con quasi completamente un sadu completamente quasi nudo ma che era con spasso di ceneri e così via e allora in questa sorta di limbo onirico in cui mi trovo alle quattro del mattino c'era questa persona che consegnava queste piccole colanine che penso siano delle preghiere che si portano al collo e allora me ne sono rimaste due e ve le porto con molto 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 piacere quando un giorno avrete qualcosa a cui dover dover aggiungere così ecco qua queste sono le prese sul gatto di Varanasi beh io ti ringrazio anche perché hai il colore azzeccato e poi e poi intanto che intanto che vi leggo un passo volevo ascoltare con voi Varanasi e penso tu vai via rimani? no no io sto qua sto qua rimane rimane no però volevo dire giusto una cosa che tutti pensano che Varanasi sia la fragranza di me o più potente e invece è quella che ha la congelazione forse minore forse minore per come dire certificare anche il fatto che comunque dipende anche molto dalla struttura di un lavoro di che tipo di materie prime utilizzi alcune materie prime danno la loro massima potenza anche concentrazioni basse o perché magari non puoi assolutamente usare in più perché perché è lì fratello ma per Varanasi va già bene così va già bene così questo è Varanasi ed è il mio bagno nel Gange 5 agosto 2017 l'alba o forse ancora notte a Varanasi quando ci svegliamo e ci dirigiamo a piedi sulla riva del fiume sacro un piccolo battello ci aspetta siamo nei pressi Dasha von Meda Gatta uno dei luoghi di peggenaggio più importanti del Gange questa lingua di terra che alterna tempo e luoghi sacri e piattaforme per la cremazione dei corpi lunghi a diversi chilometri qui è passata tutta la storia dell'induismo e sembra finire ogni cognizione umana i vicoli gli uomini i cani luoghi del sacro e della miseria vorrei non finisse mai questo tragitto a piedi soli con noi stessi il mio orientamento è pessimo mi affido sempre a Federica ha dentro di sé una capacità incredibile di orientarsi di orientare la nostra via arriviamo sulla riva il cenno di un uomo con un turbante che forse un tempo era bianco ci fa capire che ci aspettava saliamo sul piccolo battello e iniziamo il nostro viaggio sulle rive del Gange vitiamo i primi corpi che con gesti naturali entrano ed escono dal fiume riti rituali la puia normali gesti quotidiani per ogni indiano devoto di Varanasi sadhu come templi coperti di fiori cenere o nulla uomini sacri devoti alla loro tradizione tre volti scavate riconosco linee occidentali uomini venuti fin qui a cercare lo spirito dell'anima e della terra è qui che vive l'uomo senza tempo che cercava in India a Varanasi sulle rive del Gange ogni nuovo momento porta luce sulla città sacra ma è lenta come chiedere oh mio signore la tua grazia come porgerti l'acqua che qui passerà altre migliaia di volte per tante millenni ancora eppure ho visto il fiume sacro fermare la sua corsa e guardarmi mostrarmi il suo corpo la sua verità come se esistesse qualcosa di irraggiungibile per la nostra mente in quelle acque il rumore sordo dei corpi che bruciano davanti ai miei occhi porta l'acqua sulla testa e aspetta il tempo è cenere quella che porti con te uomo questo è un estratto del mio diario di Varanasi questo lavoro non sono mai riuscito a portarlo perché ed era tanto tempo che non rileggevo il mio diario grazie namaste a voi è uno di quei giorni in cui la sua vita è cambiata sì assolutamente sì in quei giorni in cui la vita è cambiata la visione di tutto ti cambia ne ho avuti tanti di momenti in cui la vita è cambiata ma non è che cambia che sconvolgo che sia qualcosa semplicemente cambia dentro nel momento in cui cambia dentro la tua storia sta cambiando un po' come la memoria quando si muovo questa cosa qua o leggo una cosa la memoria è cambiata e cambia in ogni istante ho deciso di lavorare a Varanasi tre anni dopo il viaggio perciò per farvi capire quanto è importante la memoria olfattiva per noi profumieri cioè non è che viaggiamo con un laboratorio in spalla cioè viaggiamo semplicemente con il diario la tua memoria olfattiva il tuo bagaglio olfattivo di ciò che tu hai accomodato negli anni e poi c'è dopo di tornare riuscire a captare queste le sensazioni e riportarle in formula e c'erano giorni in cui Federica mi trovava nel mio studio piegato su me stessa a piangere e non capivo cosa non capivo cosa fosse era il mal d'India penso penso che fosse qualcosa che era vicino all'odore dell'India dei Pasolini era è stata un'esperienza per me fondamentale fondamentale ed è estremamente gioioso per me sapere che comunque c'è un capitolo fissato e lì esiste esisterà per sempre è un viaggio che a volte si dice rifarei altre mille volte al momento no al momento al momento sono chiuso in un rio canna a chioto ma tornerò tornerò perché devo bisogna celebrare la vita bisogna ritualizzare la vita in ogni aspetto ogni cosa ma ci ritorni spesso lì con la mente ogni volta che sento Varanasi su Federica perché Federica è uno dei suoi profumi preferiti e perciò lo sento spesso è difficile tornarci perché comunque sono quelle esperienze che ti ti segnano e perciò ci ritorni come ci ritorni tutte le volte che ti capita davanti alla vista una foto una foto vecchia o un oggetto che ti ricordi il passato della tua vita correggimi se sei un'impressione solo mia ed errata tante volte io vedo che c'è davanti davanti a noi abbiamo delle persone che non hanno voglia di farsi stupire e vorrei evitare sempre più di parlare di note si su ogni mondo in cui nessuno parli di note esatto sei d'accordo con noi cioè abbandoniamo le note cerchiamo di raccontare quello che è la storia della fragranza oppure magari ci sono degli accordi delle materie prime che da un punto di vista tecnico non si possono non celebrare beh in me trovi una persona che naturalmente parlerebbe solo di storia ok dietro a un profumo cioè naturalmente sarei voglia di dirti che anche noi come brand puntiamo naturalmente a vendere non il meo chimico o erborista ma la storia perché la storia è quello che pensiamo essere veramente importante nel momento in cui ti dico Pacioli ti dico Vetiver ti dico sì ok in quante persone dicono quando parlo di un Pacioli con l'estrazione molecolare o il lavoro di frazionamento dopo che ti ho detto quello in mezzo alla storia è interrompere un sogno cioè stai raccontando un sogno io anche ho delle passioni e quando perciò vivo una passione un hobby non mi interessa che mi raccontino cosa c'è dietro magari ad una tecnica particolare del tè no guarda io desidero che tu mi racconti da dove viene questo tè da quella storia della tradizione del posto perché lo bevono non mi interessa se mi fai vedere cioè non mi interessa certi particolari perché io devo sognare io voglio sognare poi dove sarà il nostro mondo fra ne parlavo poco fa fuori onda con con Gabriele che mi ha chiesto secondo te dove sarà questo mondo tra tre cinque anni penso che mi abbia detto è difficile perché cambia tanto sta cambiando tanto sta cambiando tantissimo ti posso dire dove andrò io è l'unica cosa che conosco perciò cercare di raccontare sempre di più quello è fondamentale io devo devo emozionare le persone questo è l'unico mio scopo emozionarle 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 dare un senso a quel a quel gesto quotidiano o casuale o per eventi speciali c'è una connessione con il tuo stato mentale che per me è profonda perciò questo sarà sicuramente il mio futuro il futuro del nostro mondo e il mondo della fumeria di ricerca non lo so è veramente un momento un po' particolare sono a posto soddisfatto 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 va bene mio grazie mille per essere stato con noi grazie a voi grazie a tutte le persone che vi seguono è stata un'esperienza bellissima perché mi sono raccontato in alcune parti intime che non ho mai raccontato a nessuno però le occasioni speciali sono belle anche per queste cose sono dei rituali e a volte ci spogliamo anche di alcune paure di alcune cose che si hanno dentro e perciò vi ringrazio con tutto tutto il cuore arigatoukosaymas buona serata buon tutto e alla prossima